Avere i campi di mais liberi dalle infestanti è indispensabile per ottenere produzioni soddisfacenti, sia di granella che di trinciato. Tra le tante soluzioni oggi disponibili sul mercato, non c'è nessuno come a Dengokstra, l'erbicida di Bayer, pensato per eliminare le principali infestanti del mais, in maniera efficace e sostenibile. Già dieci anni fa, Bayer aveva pensato ad un prodotto moderno e innovativo. A Dengokstra non contiene terbutilazina, una molecola che dal 2022 ha subito pesanti limitazioni. Non c'è nessuno come a Dengokstra nel controllare le malerbe tipiche del mais, sia di cotiledoni che graminacee. A Dengokstra è l'unico erbicida di preemergenza che elimina la sorghetta da seme, una infestante sempre più diffusa, mentre quella da rizoma viene condizionata, favorendo l'efficacia dei prodotti di post-emergenza. Anche nella formulazione non c'è nessuno come a Dengokstra, il prodotto più concentrato del mercato, che fa risparmiare tempo, spazio e fatica nel momento più impegnativo della campagna. Semplice e pratico da usare, l'erbicida non deve essere miscelato. Per chi ha tanti ettari da trattare e vuole garanzie di tranquillità, a Dengokstra è la scelta giusta. Dalla semina alle tre foglie, il prodotto permette una finestra d'utilizzo di oltre un mese. La formulazione moderna, a base di tiencarbazzone metil, isoxaflutole e ciprosulfamide, rende a Dengokstra un prodotto moderno, sostenibile e rispettoso del mais. Non c'è nessuno come a Dengokstra. Scopri di più sui canali Bayer.